Il capo della fotografia mi è sempre piaciuto ed ho scoperto il mondo Nippon. Inizialmente ho utilizzato la D3200 giusto per orientarmi, poi sono passato la D750. Mi ha colpito molto l'estetica e le prestazioni senza precedenti. L'ho scelta perché è una full frame piccola e leggera, in modo tale da gestire qualsiasi situazione con ottimi risultati. Sono Fabio Fossati ed ho scelto Nikon. Sono Fabio Fossati ed ho scelto.